La prestazione perfetta direi, se non fosse per qualche sbavatura nel finale. Sono subentrati i fantasmi del passato purtroppo, però non posso dire niente che la squadra, come appena detto, abbiamo fatto una partita quasi perfetta, li abbiamo assagrediti dal primo san novantesimo, non li abbiamo concesso nulla, ma questo ci devo essere onesto, si è visto anche nelle ultime 3-4 partite, sono tre partite che non concediamo un tiro in porta, adesso a parte l'ultimo, il novantesimo e il calcio di rigore inesistente di Karate. Abbiamo fatto una buonissima prestazione, sono veramente contento, era un risultato che ci voleva, si è importante, ci fa respirare un attimino e adesso andiamo a Sapiacenza e vedremo quello che succede. Abbiamo giocato sempre con tre difensori, l'unica cosa è che ho scelto Kruppi per Bisceglia proprio perché Kruppi è più attaccante rispetto a Sapiacenza per prenderli alti e poi ho rinunciato un attaccante perché loro giocando con la difesa a tre ho preferito giocare con Mercorillo mezza punta per tirar fuori uno dei loro tre centrali e la scelta adesso fortunatamente è stata azzeccata. Bisogna essere molto più cattivi perché questa partita non si poteva pareggiare, era veramente un suicidio, dopo aver creato a Salmeno, non so, ce le ho contate, ma dieci, dodici palle e gole, è stata veramente una partita che ha senso unico. Guardo la mia squadra, io l'Inveruno l'avevo visto domenica, sapevo dove andarli a prendere, insomma, abbiamo cercato di prenderli alti ma di non farli ragionare. Noi, ripeto, sulle ripartenze siamo devastanti, insomma, ecco, dobbiamo concretizzare di più perché, ripeto, abbiamo nove punti, me l'ho sempre detto dall'inizio e dovevamo a Saverne salmeno 13 o 14.